Ciao a tutti ragazzi, in questo nuovo video presenterò il libro di Heidi, qua Heidi, Joanna L. Spiri, poi qua Heidi e la capretta, a cura di Paolo Sorge, edizione integrale, New Computation Editori, la biblioteca ideale, Heidi, Joanna L. Spiri, qua ci sono scritte alcune cose, la vita dell'autrice di Heidi, il prezzo 4,90€, poi qui le pagine, ma in niente, nel prossimo video presenterò l'Isola del Tesoro.